Miss Valdaosta, Giuba Bedeschi. Numero 2, Miss Piemonte, Erika Carrera. Numero 3, Miss Lombardia, Marianna Cassarino. Numero 4, Miss Trentino Alto Adige, Martina Ceschi. Numero 5, Miss Friuli Venezia Giulia, Antonella Perini. Numero 6, Miss Veneto, Marta Randon. Numero 7, Miss Liguria, Simona Leoncini. Numero 8, Miss Emilia, Vanessa Villafane. Numero 9, Miss Romagna, Beatriz Colombo. Numero 10, Miss Toscana, Anna Safroncic. Numero 11, Miss Umbria, Valeria Bovi. Numero 12, Miss Marche, Tiziana Carnevali. Numero 13, Miss Lazio, Cristina Bianconi. Numero 14, Miss Abruzzo, Elga Fontana. Numero 15, Miss Campania, Anna Lisa Criscuolo. Numero 16, Miss Puglia, Chiara Povia. Numero 17, Miss Calabria, Lina Scalzi. Numero 18, Miss Sicilia, Gloriana Palletta. Numero 19, Miss Sardegna, Stefania Michelutti. Per le Miss Cinema, numero 20, Dall'Emilia, Gloria Bellicchi. Numero 21, Dall'Azio, Paola Cognetta. Numero 22, Dall'Azio, Ilari Blasi. Per le Miss Eleganza, numero 23, Dalla Lombardia, Erika Basanisi. Numero 24, Dalla Romagna, Rita Scagliarini. Numero 25, Dall'Umbria, Annalisa Bandinelli. Numero 26, Dall'Azio, Marika Bisirri. Numero 27, Dall'Azio, Ilaria Spada. Numero 28, Dalla Puglia, Deborah Scivittaro. Numero 29, Dall'Azio, Ilegna Petrasso. Numero 30, Dalla Sardegna, Simona Bacca. Per le Missa Marea, Moda Mare, numero 31, Dalla Lombardia, Silvia Vitali. Numero 32, Dal Veneto, Chiara Valentini. Numero 33, Dall'Emilia, Denise Ponzi. Numero 34, Dalla Romagna, Barbara Casadei. Numero 35, Dalla Toscana, Laura Torrisi. Numero 36, Dalle Marche, Giulia Piattelli. Numero 37, Dal Lazio, Romina De Lobu. Numero 38, Dall'Abruzzo, Lia Cutino. Numero 39, Dalla Campania, Lucia Aversano. Numero 40, Dalla Sicilia, Liliana Abbate. Numero 41, Dalla Sardegna, Martina Farris. Per le Miss Debora, numero 42, Dalla Lombardia, Mara Maccagnola. Numero 43, Dalla Friuli Venezia Giulia, Barbara Michelutti. Numero 44, Dalla Veneto, Elisa Trevisani. Numero 45, Dalla Emilia, Benedetta Gualdrini. Numero 46, Dalla Romagna, Maria Sagliocca. Numero 47, Dalla Toscana, Chiara Benedetti. Numero 48, Dalla Marche, Bagna Lupacchini. Numero 49, Dalla Lazio, Ornella Roddi. Numero 50, Dalla Puglia, Cosma Anna Ardillo. Numero 51, Dalla Sardegna, Yanira Medda. Per Mary, Ragazza in Gambissime. Numero 52, Dalla Val d'Aosta, Michela Trucco. Numero 53, Dalla Trentino Alto Adige, Silvia Magni. Numero 54, Dalla Friuli Venezia Giulia, Sara Lazzari. Numero 55, Dalla Veneto, Mendi Boscolo. Numero 56, Dalla Emilia, Francesca Abbati. Numero 57, Dalla Romagna, Cristiana Marinelli. Numero 58, Dalla Toscana, Lorenza Casacci. Numero 59, Dalla Marche, Patrizia Mollica. Numero 60, Dalla Lazio, Giusy Pepe. Numero 61, Dalla Abruzzo, Monica Baldacci. Numero 62, Dalla Puglia, Chiara Tribuzio. Per le Miss Bellezza Rocchetta, Dalla Lombardia, Numero 63, Michela Mirani. Marani. Numero 64, Dalla Liguria, Marianna Piccolo. Numero 65, Dalla Romagna, Marilena Fantini. Numero 66, Dall'Umbria, Roberta Giorni. Numero 67, Dalle Marche, Naiche Dominici. Numero 68, Dalla Lazio, Tamara Bendotti. Numero 69, Dalla Campania, Amalia Cosentino. Numero 70, Dalla Puglia, Angela Musci. Numero 71, Dalla Calabria, Anna Tavernise. Numero 72, Dalla Sicilia, Simona Sozzi. Per la Ragazza Sascio, Top Model Domani. Numero 73, Dalla Lombardia, Cristiana Pezzucchi. Numero 74, Dall'Emilia, Francesca Oppici. Numero 75, Dalla Romagna, Alice Ricci. Numero 76, Dalla Toscana, Milena Musoni. Numero 77, Dalle Marche, Emanuela Verdecchia. Numero 78, Dall'Azio, Barbara Salvati. Numero 79, Dall'Abruzzo, Giorgia Gallerati. Numero 80, Dalla Puglia, Alessandra Maglie. Numero 81, Dalla Calabria, Cristina Vangone. Numero 82, Dalla Sardegna, Zaira Unali. Per le Miss Bella, Numero 83, Dalla Lombardia, Elisabetta Liberale. Numero 84, Dalla Romagna, Valeria Pontellini. Numero 85, Dalla Toscana, Cristina Cellai. Numero 86, Dall'Umbria, Francesca Ancarani. Numero 87, Dalle Marche, Roberta Iobbi. Numero 88, Dall'Azio, Francesca Speranza. Numero 89, Dall'Abruzzo, Sara Siciliano. Numero 90, Dalla Campania, Vincenza Giamunno. Numero 91, Dalla Puglia, Natascia Castrignano. Numero 92, Dalla Sicilia, Valentina Settineri. Numero 93, Dalla Sardegna, Milena Piga. Per le Miss Sorriso, Omnitel, Dal Piemonte. Numero 94, Manuela Bellin Salarin. Numero 95, Dalla Lombardia, Elisa Galetti. Numero 96, Dalla Trentino Alto Adige, Evelyn Vettori. Numero 97, Dalla Romagna, Alessandra Perazzuolo. Numero 98, Dalla Lazio, Manuela Calì. Numero 99, Dalla Campania, Antonella Tramontano. Numero 100, Dalla Sardegna, Milena Fancello. Numero 97, Dalla Trentino. 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 Numero 97, Dalla Trentino.